Porta in vantaggio la Ternana dopo 23 minuti del primo tempo sul cross da destra. Ha trovato il suo primo gol in questo campionato Palombi. E anche il suo primo gol nel campionato di B. Il cross è di Zanon, colpo di testa in inserimento, anticipa Mantovani. Ha munito poco fa e mette in rete il pallone dell'1-0. Il suo primo gol nel campionato di B. Il cross è di Zanon, colpo di testa in inserimento, anticipa Mantovani. Ha munito poco fa e mette in rete il pallone dell'1-0. Secondo gol dopo pochi minuti, dopo quello del vantaggio segnato da Palombi, Falletti. Si crea lo spazio per il destro, lo effettua e batte Terracciano. Secondo gol in questo campionato per Falletti, dopo il primo in assoluto. Secondo gol dopo pochi minuti, dopo quello del vantaggio segnato da Palombi, Falletti. Si crea lo spazio per il destro, lo effettua e batte Terracciano. Secondo gol in questo campionato per Falletti, dopo il primo in assoluto. Calcio di punizione, come sempre affidato al sinistro di Rosina. Fischia Minelli. Va Rosina dentro, Bernardini anticipato, il pall sinistro! E il 2-1 di Perico! Accorge le distanze, la Salernitana! Con Gabriele Perico. Eccola qui, la reazione della Salernitana! Il cross di Rosina, lo rivediamo. Il colpo di testa di Valiant e poi il sinistro. Sono soltanto due, gli uomini in barriera per la Ternana. Il fischio di Minelli. Va a Coda! E uno gol di Coda! 2-2! Si sblocca! Massimo Coda! Quarto gol in campionato per lui! La rimonta della Salernitana, dopo il 2-0 della Ternana. L'espulsione di Meccariello. Ora la punizione. Può completare addirittura la rimonta la Salernitana al secondo minuto di recupero. Vitale pronto ad andare dal dischetto. aveva segnalato assolutamente la rimessa dal fondo Minelli. Poi sull'azione dell'assistente ha cambiato idea facendo scatenare le proteste della Ternana. Ora Vitale contro Di Gennaro. Fischia Minelli. Va Vitale! Sotto la traversa! 3-2 Ternana da 2-0. Ternana! Auger. Rosina. Ancora per il Ghanese che gira per Bernardini. Vitale. Bernardini. Auger. Rosina. Coda sulla tre quarti, tutto solo. Arriva Di Noia a disturbarlo. Coda può andare con il sinistro. Coda! L'ha respinta! Rosina! 4-2! Non esulta il capitano della Salernitana, ma è un gol in posto.